www.trentaoredoro.it Segui il link rapidamente ed iscriviti o insegnante e con 30 ore soltanto impari gratis parli e insegni l'esperanto Esperanto, la lingua veloce internazionale è etica 30 ore d'oro, l'esperanto si fa scuola www.trentaoredoro.it Saluton, mi estas Laura Brazzabeni Saluton, mi estas Nicola Morandi Esperanto, che dopo 30 ore ti permette di dialogare con chiunque Saluton Nicola, chi è il Vifartas? Saluton Laura, mi fartas bone, d'Ancon Esci dai sottotitoli, impara l'esperanto, progetto 30 ore d'oro Esperanto, lingua della pace, dell'amicizia, della comunicazione internazionale Esperanto, un ponte tra lingue diverse Sei un insegnante? Sei uno studente? O anche solo una persona interessata ad apprendere con noi questa lingua? Registrati a www.trentaoredoro.it e inizia ad apprendere www.trentaoredoro.it Segui il link rapidamente ed iscriviti o insegnante E con 30 ore soltanto impari gratis parli insegni l'esperanto Esperanto, la lingua veloce internazionale è etica 30 ore d'oro L'esperanto si fa scuola www.trentaoredoro.it L'cartetta a www.trento.it Grazie a tutti.